Sono le 5, almeno ti rivediamo, ecco infatti manchi solo tu, cioè sarebbe il caso Infatti i ballerini avrebbero sempre stati considerati un po' meno, però è carino almeno Poi comunque è una cosa importante per te, cioè si rendono conto che stai facendo un bel percorso, no? Nel caso proprio che tutti gli andiamo Eh vabbè dai, speriamo Noi continuiamo a fare richieste comunque, tanto Noi cosa facciamo il nostro? Guarda là, guarda là, che c'è, che bello Mi dai bacini, guarda i bacini, che c'è, no? Dove è il giochetto tuo, dove l'hai messo? Eccolo, eccolo Uri Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo